Non ce l'aspettavamo un temporale così, però non si vedeva niente, proprio un vento così forte, ma è vista una cosa così. È stata una notte da incubo per gli abitanti di Spresiano, strade interrotte dagli alberi caduti, colture devastate dal vento e dalla grandine, la paura è scesa nella notte quando tutti erano a letto. Era buio e non sapevi cosa succedeva fuori. Gli alberi hanno colpito le vigne? Sì, questo è il risultato. Il temporale di stanotte ha colpito in modo particolare tutta la zona che costeggia il Piave, quindi partendo dai Calessani e tutta la fascia di Lovadina, via Grentine e via Barcador, che sono state totalmente chiuse al traffico perché sono caduti notevoli quantità di alberi. Adesso ci stiamo attivando in tutte le maniere con gli operai del comune, la protezione civile. Anche il circolo equestre di Spresiano ha riportato numerosi danni. Dove è stato sollevato il tetto delle stalle e anche una parte del padiglione, quello grande, dove fanno gli allenamenti. Tanta paura e tanti danni? Sì, tanti danni. Purtroppo sì, tutti gli alberi, come vede, tutti rotti. Il problema è che cadendo sono andati a toccare tutte le strutture e il vento ha proprio aperto la parte del tetto della scuderia. Fortunatamente nessun cavallo è stato ferito. In alcune zone sono senza telefono e corrente. Sì, sì, sì. Certamente sì, con i temporali sono caduti tutti gli alberi che sono caduti, hanno divelto le linee. Noi abbiamo contattato sia Enel sia anche la Telecom e usciranno a ripristinare. È successo tutto in un lampo di un secondo e ci siamo trovati con la casa distrutta. Questa notte in due minuti ha fatto il disastro perché al momento non me ne sono accorto, ma stamattina con la luce tutti quelli che sono gli alberi d'Alto Fusto qui dietro, praticamente quasi la totalità, li ha sradicati da sotto. Non era mai successa una cosa del genere. Ci sono state altre sfuriate, però non di queste entità. Ma io ho 71 anni, ma una cosa così non mi era mai capitato di vedere. Sconsolato è anche Cristian Schiavone, mentre passeggia nella proprietà che era di suo nonno, dove sono stati abbattuti una decina di alberi. C'è lo sconforto di mettersi qui, tirarsi sulle maniche, ripiantare, ripartire e sperare che ci dia tregua perché le previsioni non sono ancora ottimali. Grazie a tutti.